Verrà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18 nella piazzetta fuori dagli schemi nel quartiere Provvidenza la mostra fotografica Il quartiere racconta a cura di Andrea Francesco Paolillo. La Provvidenza è uno dei quartieri più antichi della città e verrà visionato dalla mostra di Paolillo in 23 scatti che raccontano la vita quotidiana in un miscuglio di colori e multietnicità che contraddistinguono da anni il vecchio quartiere degli zingari o furchi. Il quartiere della Provvidenza è uno dei quartieri più antichi della città e del protagonista della mostra. Il quartiere racconta la vita, la vita delle famiglie nissene che quotidianamente si incontrano con le famiglie di immigrati che vivono in questo quartiere in uno sfondo architettonico dove il vecchio e il nuovo si incontrano dando vita ai colori che si mescolano nel quartiere, i colori che ho voluto mettere in risolto in alcuni miei scatti fotografici. La mostra infatti si compone di 23 scatti, alcuni in bianco e nero e altri a colori. Quindi ho voluto attenzionare molto il quartiere della Provvidenza che per diverso tempo è stato abbandonato ma oggi fortunatamente sta dando segnali di rinascita e di rigenerazione. Oggi esempio di convivenza multiculturale. La mostra inizia il 23 alle ore 18 con la mia inaugurazione e si concluderà il 30 di settembre. Ogni pomeriggio aprirò dalle 18 alle 21.